Silvio Baldini non è più l'allenatore del Crotone, l'artefice del Miracolo Palermo non è riuscito ad incidere in rosso-blu dopo l'arrivo al posto di Lamberto Zauli. Una stagione complicata per i pitagorici che già dall'estate, con l'arrivo del direttore di Bari, avevano messo Michele Pazienza nel mirino, salvo poi scegliere di continuare proprio con Zauli, reduce dagli 80 punti in campionato e un playoff sicuramente non da protagonisti. Mai nei primi posti nel campionato attuale le difficoltà di Zauli avevano portato alla decisione di esonerare l'ex Juventus Next Gen, ma la squadra aveva salvato il tecnico assumendosi la responsabilità e ottenendo anche risultati importanti. Una striscia di 10 partite senza perdere fino al match contro l'Avellino del 22 dicembre, quando un gol di Patierno permise ai Lupi di espugnare lo Scida. Da quel giorno Aldi e Bassi, il 3-0 al Catania e lo 0-4 a Torre del Greco sulla Turris, poi 5 Parigi e una sconfitta nelle successive 6 partite che costano la panchina allo stesso Zauli con l'arrivo di Silvio Baldini. Un tecnico preparato con la promozione magica del Palermo ancora negli occhi di tutti. Vinceremo i playoff, vi va dichiarato Baldini, ma il suo score è davvero deludente. 4 sconfitte in 5 partite con Capitano Gigliotti, Dini ed Enrico fuori rosa. Insomma, un impatto tutto fuorché positivo con lo spogliatoio fino alla decisione di dimettersi. Torna quindi Lamberto Zauli sulla panchina del cortone. Un Zauli Tris, quindi e ora i tifosi sono preoccupati per la posizione playoff dei Rosso-Blu.